Pozzo, comunque oggi avete riprovato, soprattutto te. Sì, oggi comunque non abbiamo ammolato, abbiamo cercato di andare in fuga per magari dopo dare una mano in un eventuale attacco. Pozzo oggi si è difeso bene, credo, quindi siamo contenti del nostro Giro d'Italia. La conclusione di questo Giro quindi è positiva per te? Sì, per noi è positiva. Grazie.